il cardigan oppure sotto ci metto un lupetto l'abito mi piace tantissimo con questo wrap diciamo è molto molto valorizzante soprattutto di certe fisicità io sto indossando il salvia ma mi mostreremo anche uno splendido lampone e un blu nevi costa 63 euro e 75 un 100% viscosa quindi morbidissimo lo sto indossando come vedete con gli stivaletti avrei potuto mettere anche uno stivale più alto avrei potuto mettere un quistard perché si apre un po molto carino e poi cos'altro niente partiamo alla misura della vite del fianco e col pantalone non avete nessun problema a roba questi li metto in estate li tengo tutto l'anno sempre nella loro posizione che sempre quella nel mio armadio anta di destra a sinistra perché poi faccio le sovrapposizioni qui metterei adesso la cintura qui solo sull'abito metto sopra un bel cardigan nella cintura la metto nello stesso punto ma col cardigan sopra oppure con il giubbotto di pelle adesso vedete uno stivaletto basso ma potrei tranquillamente metterci un quistard perché questo è un modello wrap vedete che quando cammini adesso io l'ho aperto molto però quando cammini ti dà questo movimento per cui se metti uno stivale si anche col quistard è molto bene è molto bello anche perché tu lo noti sul davanti molto bello il fatto che poi ando da questo movimento che lo rende qui molto femminile molto romantico anche qui parliamo di uno stivale più alto avrei potuto mettere un quistard perché si apre un po